Gesù e Maria state per assistere amici carissimi a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione se possibile ovviamente al termine della visione mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale fatelo ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime quanto state per ascoltare io vi benedico e la santa vergine vi protegge Laudentur Jesus et Maria amici carissimi bentornati ad una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di giuda questa è la puntata numero 31 per chi segue la diretta chiedo scusa di qualche piccolo ritardo dovuto al protrarsi di alcuni impegni precedenti bene oggi il titolo di questa nuova di questo nuovo capitolo è abbastanza emblematico che si intitola subisce il giudizio severo di un bambino quindi andando a riminiscenze ricordo questo episodio nella lettura dalla bocca dei bambini come ben sappiamo e dalla loro innocenza purtroppo esce la verità è un episodio abbastanza bruttarello per certi aspetti nel senso che lo sentiremo molto umiliante per giuda e scariota però purtroppo quando non ci convertiamo il signore permette anche esperienze di questo genere lo andiamo a leggere per trarne poi speriamo motivo di riflessione di crescita spirituale per tutti il collegio apostolico al completo è intorno a Gesù seduti sull'erba al fresco di un ciuffo d'alberi presso un rio tutti mangiano pane e formaggio e bevono dell'acqua del rio che è fresca e limpida i sandali polverosi dicono che già molta strada è stata fatta e forse i discepoli non chiederebbero che di riposare nell'erba alta e fresca ma l'instancabile camminatore con la c maiuscola non è di questo parere appena giudica passata l'ora calda si alza in piedi e si fa sulla via e guarda poi si volge e dice andiamo semplicemente giunti ad un bivio anziché anzi ad un quadrivio perché quattro vie polverose si uniscono in quel punto Gesù prende risolutamente quella che va in direzione nord-est torniamo a Cafarnao chiede Pietro Gesù risponde no unicamente no allora a Tiberiade insiste Pietro che vuole sapere neppure ma questa via va al mare di Galilea e lì di Tiberiade e Cafarnao e via anche Magdala dice Gesù con un volto semiserio per far calmare la curiosità di Pietro Magdala Pietro è un poco scandalizzato il che mi fa pensare che questa città abbia cattiva fama a Magdala sì Pietro a Magdala reputi di essere troppo onesto per entrarvi Pietro Pietro per amore mio dovrei entrare non in città di diletto ma in veri lupanari non è venuto il Cristo per salvare i salvati ma per salvare i perduti e tu tu sarai Pietro o Cefa e non Simone per questo hai paura di contaminarti no neppur questo vedi e accenna al giovanissimo Giovanni neppur questo ne avrà danno lui no perché non vuole come non vuoi tu come non vuole tuo fratello il fratello di Giovanni come nessuno di voi per ora vuole finché non si vuole non avviene male ma occorre non volere fortemente e costantemente forza e costanza si acquistano dal padre pregando con sincerità gli intenti non tutti saprete in seguito sempre pregare così che dici Giuda non ti fidare troppo di te stesso io che sono il Cristo prego costantemente per avere forza contro Satana sei tu da più di me l'orgoglio e fessura per cui Satana penetra si vigilante e umile Giuda Matteo tu che sei molto pratico del luogo dimmi è meglio entrare da questa via o ve ne è un'altra prima di sentire la risposta di Matteo qui ha parlato il maestro e vabbè non c'è bisogno di evidenziare che ha parlato da Dio come al solito però è bene focalizzare e fare un po' un focus appunto su alcune cose enormemente importanti focali fondamentali che ha detto c'è un antefatto anzitutto questo è un monito che vale per tutti noi la curiosità e le domande indiscrete tante volte ho parlato di questa cosa qui Gesù non voleva rispondere e che non voleva rispondere l'ho fatto capire rispondendo a monosillaba alla prima domanda di Pietro torniamo a Caparnao Gesù risponde no e Maria Valtorta nota unicamente no quindi se avesse voluto rispondere diciamo no Pietro andiamo a Magdala ma ha risposto no e Pietro che evidentemente come tutti i dodici è ancora come dire acerbo diciamo così imperfetto questo in base ai Vangeli dove come diceva il buon San Giovanni Crisostomo che siano veri lavorano dal fatto che gli evangelisti hanno raccontato tutte cose dicono a Napoli senza assolutamente edulcorazioni senza mitigazioni senza veli quindi non avendo timore di mostrare anche le piaghe le ferite di imperfezioni che infettavano il gruppo apostolico questa è una cosa ma vi ricordate quando Giacomo e Giovanni volevano fulminare un villaggio o sempre quando Giacomo e Giovanni dicono vogliamo sedere uno alla destra o alla sinistra e poi San Pietro che prima diventa Papa e poi dice subito ma non si va in croce e Gesù gli risponde vattene via che tu sei Satana oppure durante l'orto dei rinnegamenti di Pietro o durante l'orto degli olivi Pietro taglia l'orecchio al servo del sacerdote quindi vogliamo mettere un altro po' insomma no o Tommaso che dopo la risurrezione fino a quando non mette il dito nel costato non crede no quindi ok ecco Gesù li sta formando però quindi attenzione alla curiosità la curiosità è sempre una cosa negativa ecco però quando facciamo una domanda indiscreta magari l'interlocutore per non mancare la carità cerca di farci capire con una risposta un po' così che non è il caso lì è bene evitare di insistere così come Pietro ho sbagliato all'insistere dopo Gesù si è visto diciamo così costretto a scegliere presumibilmente la soluzione cioè vabbè poi capirà adesso rispondiamo e poi a tratto anche darà risposta a occasione di insegnamento ecco allora a proposito poi insomma dell'ambiente mazzano che quindi questi si scandalizzano un po' Pietro si scandalizza un po' dell'ambiente proprio non proprio da educande dove dovevano andare e Gesù coglie subito l'occasione per dire punto primo altro che città di piacere dovrà entrare in lupanari per amore mio proprio lupanari per amore mio insomma no la cosa fondamentale è che non ci sia la volontà non ci sia la volontà di essere contaminati da da posti di questo genere questi veramente contaminano finché non si vuole non avviene male ma occorre non volere fortemente e costantemente vi permetto di spiegare perché ricordo bene San Tommaso da Quino nella Somma Teologia ma anche i maestri di Spirito dicono chiaramente stare in un posto balordo non solo può diventare ma è oggettivamente un'occasione di peccato sappiamo bene che ordinariamente noi le occasioni di peccato dobbiamo fuggirle come dice l'atto di dolore propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti di fuggire le occasioni prossime di peccato ora però si distinguono appunto in spiritualità e in ascetica due tipi di occasioni di peccato le occasioni volontarie di peccato le occasioni non volontarie di peccato o addirittura necessarie la capiamo o faccio qualche esempio che forse è meglio no supponiamo che una persona un medico ok se un medico deve fare una visita a persona di sesso diverso che vogliamo fa? non gliela fa? quella è un'occasione di peccato cosiddetta necessaria perché non è che non può fare una visita e se certo il medico lo sa cioè se deve fare una visita perché non è necessario che la persona insomma si tolga troppi indumenti di tosso in coscienza lo direi toglie tutti perché dentro la testa sulla pezza vediamo che c'è sotto non so se se mi spiego ma se è necessario deve fare quella cosa in maniera assolutamente professionale perché quello è inevitabile è diverso se la stessa persona volontariamente appunto proprio nell'esempio che sto facendo quindi non essendo necessario va oltre il necessario d'accordo spero di essere stato chiaro no? e in spiritualità ascetica si insegna le occasioni necessarie di peccato cioè quelle che non si possono evitare ambienti lavorativi o cose di questo genere il maestro dice bisogna andare lì che fate metti in conto a Gesù Cristo ecco qui si vincono si superano tranquillamente basta stare in grazia e avere però la volontà di non peccare perché quella deve essere sempre presente e perché sia presente spiega Gesù nel secondo step forza e costante e costanza parla di non volere fortemente e costantemente si acquistano dal Padre pregando con sincerità gli intenti amici cari la preghiera non bisogna mettere bene in testo una cosa cioè fino a quando siamo in questo mondo la preghiera è necessaria si deve pregare tutti i giorni con insistenza e senza stancarsi cioè la routine quotidiana per noi poveri preti cioè alcune cose non si toccano ognuno poi deve partecipare di vita proprio ordinato possibile tranquillo io dico sempre per i laici cioè un binario che è la messa e il rosario arrivando come obiettivo alla messa quotidiana e il rosario intero non dall'oggi al domani poi una volta che uno raggiunge l'obiettivo quello non si tocca tutta la vita è così tutta la vita è così salvo evidentemente circostanze malattie adesso li specifico sempre perché dopo guardate che a combattere tante volte con la con la volontà umana delle persone che se non spieghi l'ovvio e le volte no capitano vi faccio un esempio fare la catechesi sull'issolubilità del matrimonio una persona che ha avuto la sentenza dell'onidità dice ho peccato no io parlo dell'issolubilità del matrimonio insolubilità del matrimonio vuol dire che non bisogna divorziare non che se ci fosse stata una causa seria su un processo di onidità se il matrimonio è nullo non è sciolto è nullo però capite dovrebbe essere evidente però è meglio ad abbundanziam ecco specificare piuttosto che poi mandare in patema qualche anima un po' più fragile no quindi su questo vi siamo spiegati per noi poveri preti brevario meditazione rosario messa cioè non si toccano saranno avuti i giorni è una legge fino a quando stiamo qui e qua si vede che forse Giuda stava facendo spallucce nicchiando dicendo qualcosa dice dai giovanotto te chiedisi dai tranquillo io prego costantemente per avere forza contro Satana dice Gesù e vedete sei tu più grande di me quante volte dovremmo farci questa domanda noi non siamo più grandi di lui i Vangeli su questo sono inequivocabili Gesù passava le notti in preghiera salsava presto la mattina ci dice un altro evangelista per andare a pregare io tante volte da ragazzotto giovane convertito dico ma che deve pregare a fare nostro signore Gesù Cristo mi chiedevo no la domanda sciocca è inutile se lo fa l'ha fatto quantomeno per dare il buon esempio perché poi dentro le dinamiche della santissima umanità di Gesù noi ci possiamo intervare non in punta di piedi di più ma magari facendo attenzione insomma non soltanto ai Vangeli ma anche a qualche informazione che ci viene appunto da da punti che sembrano attendibili per farci raccapezzare qualcosa no tipo le meditazioni quotidiane che stiamo facendo da un po' sugli scritti sulla vita interna di Gesù Cristo di Scioccio Cida Bai che sono molto belle lì si capisce un po' perché Gesù faceva queste cose no però l'orgoglio cioè l'orgoglio che chi ti credi di essere che ti dai la dispensa dalla preghiera nessuno può dare la dispensa dalla preghiera e nessuno che dia dispensa dalla preghiera è qualcuno che venga da Dio poi questo è matematico dal cielo ci raccomandano sempre di pregare con insistenza con perseveranza ed anche certamente non troppo ma neanche troppo poco poi questi parametri del troppo e del troppo poco calibrarli da un punto di vista sia oggettivo che soggettivo cioè sia in sé che in relazione alle possibilità concrete della persona è un problema da affrontare ciascuno personalmente anche con l'ausilio per chi c'era del padre spirituale per capire esattamente come impostare il proprio piano di vita no vabbè adesso andiamo a sentire la risposta di Matteo alla richiesta di Gesù circa informazioni toponomastiche dato che Matteo che era uomo di mondo e di piacere pare che conoscesse bene Magdala e dintorni quindi è meglio entrare da questa via o ve ne è un'altra dipende maestro se vuoi andare nella Magdala dei pescatori e dei poveri questa è la via da qui si entrano in soborgo popolare ma non lo credo ma lo dico per darti ampia risposta se vuoi andare dove sono i ricchi allora bisogna lasciare per qualche cento metri questa strada e prendere un'altra perché le case ricche sono quasi a questa altezza e bisogna tornare indietro torneremo indietro perché è nella Magdala dei ricchi che voglio andare che hai detto Giuda nulla maestro è la seconda volta che me lo chiedi in poco tempo ma io non ho mai parlato vedete Giuda sentite la risposta che gli dà Gesù con le labbra no ma hai parlato mormorando con il tuo cuore vedete quelli di noi che fanno i furbastri Dio ci legge hai fatto della mormorazione con il tuo ospite il cuore non è necessario avere un'altra creatura un interlocutore per parlare molte parole le diciamo noi a noi ma sentite ma non bisogna mettere mormorazione o calunnia neppure con il proprio io ci abbiamo mai pensato io ricordo anche questo quando leggevo la Somma Teologia certi colpi perché San Tommaso è un grande maestro anche di teologia morale e mi ricordo quando parlava della mormorazione in terra tu non soltanto non solo fai la maldicenza quando lo dici ma fai la maldicenza quando lo pensi cioè se tu pensi ma guarda questo lo scemo e non lo dici a nessuno ma questo è peccato pure se l'hai fatto tra te e te noi non ci pensiamo tra te e te lui ha fatto un peccato di mormorazione o di calunnia con il proprio io generalmente le anime tutti sono poco attenti ci metto tanto pure io eh ai peccati di pensiero però pensieri parole opere omissioni Gesù ci insegna non mormorate nel vostro cuore Vangelo va bene quando arrivano al quartiere elegante di Magdala odono un coro di pianti e di urla disperate un uomo è morente per aver avuto un colpo di pugnale al cuore il feritore è stato un romano che è fuggito ma viene accusato come vera colpivore la donna peccatrice nella cui casa è avvenuto il fatto Maria di Magdala questo chi ha seguito le catechie su Maria di Magdala è un episodio che ricorderà abbiamo ampiamente letto e commentato a suo tempo Maria di Magdala che si mostra più procace che mai Gesù per pietà della madre del ferito che è un giudeo guarisce l'uomo dopo averlo fatto trasportare lontano da quella casa di corruzione e aver preteso sentimenti di perdono dalla madre e dalla moglie di voi prima di allontanarsi Gesù rimprovera Pietro che ha lanciato a Maria un insulto ingiudioso Pietro io non insulto tu non insultare prega per i peccatori null'altro il miracolo deve essere avvenuto da poco perché gli apostoli ne parlano e anche i cittadini commentano aditandosi il maestro che se ne va dritto e severo verso la periferia della città verso la parte dei poveri si ferma ad una casuccia da cui esce saltellando un bambino seguito dalla madre donna mi lasci entrare nel tuo orto e sostare un poco finché il sole perde il suo calore entra signore anche in cucina se vuoi ti porterò acqua e ristoro non ti affaticare dice Gesù mi basta rimanere in questo orto Pietro ma la donna vuole offrire acqua temperata da non so che e poi gironzola per l'orto come vogliosa di parlare e non osa si occupa delle sue verdure ma è una finta in realtà si occupa del maestro e le dà noia il bambino che con i suoi strilli quando acciuffa una forfalla o un altro insetto le impedisce di sentire ciò che Gesù dice se ne inquieta e lascia andare uno schiappetto al bambino il quale strida più forte Gesù che stava rispondendo allo zerote che gli aveva chiesto credi che Maria ne sia scossa con queste parole più che non vi appaia si volge e chiama a sé il bambino che accorre a finire il suo pianto sui ginocchi di Gesù la donna chiama beniamino vieni qui non disturbare ma Gesù dice lascialo lascialo starà buono e ti lascerà quieta poi al bambino non piangere non ti ha fatto male la mamma solo ti ha fatto ubbidire anzi ti voleva ubbidire perché strillavi mentre lei voleva silenzio forse si sente male e i tuoi gridi le danno noia il bambino svelto con quella insuperabile schiettezza dei bambini che è la disperazione dei grandi dice no no non si sente male ma voleva sentire quello che tu dicevi mi lo ha detto ma io che volevo venire da te facevo chiasso apposta perché tu mi guardassi bello eh ridono tutti e la donna si fa di fiamma Gesù interroga la donna che confessa di credere in lui come Messia e gli confida le proprie ansie di moglie e di madre di una numerosa prole fino a prendersela con le spudorate che non hanno che il godere Gesù le mostra comprensione ma anche le fa notare quanto siano infelici le donne di piacere poi interpretando il pensiero degli apostoli cerca di spiegare anche con una parabola come si possa convertire al bene Maria di Magdala comprendete da quanto vi ho detto che è giusto che agisca verso Maria come agisca ho forse agito diverso con te Matteo no mio signore e dimmi il vero ti ha persuaso di più la mia pazienza o le rampogne acerbe dei farisei la tua pazienza risponde Matteo tanto che sono qui i farisei con i loro sprezzi e i loro anatemi mi facevano sprezzante e per sprezzo facevo ancora più male di quanto avevo fatto fino allora succede così ci si irrigidisce di più quando essendo in peccato ci si sente trattare da peccatori ma quando in luogo di un insulto ci viene una carezza si resta sbalorditi poi si piange e quando si piange l'armatura del peccato si scriavarda e crolla si resta nudi davanti alla bontà con la B maiuscola e la si supplica col cuore di investirci di sé hai detto bene beniamino ti piace la storia si bravo e la mamma dov'è risponde Giacomo d'Arfeo è uscita al termine della parabola andando di corsa per quella via andrà al mare per vedere se viene lo sposo dice Tommaso no è andata dalla vecchia madre a prendere i fratellini la mamma li porta là per poter lavorare dice il bambino appoggiato confidenzialmente ai ginocchi di Gesù e tu stai qui uomo devi essere un bell'aspide se ti tiene solo osserva Bartolomeo io sono il più grande l'aiuto a guadagnarsi il paradiso povera donna quanti anni hai chiede Pietro fra tre anni sono figlio della legge dice con supervi il monello il che mi permetto di chiosare io per chi non lo sapesse ma credo che sia una notizia nota quindi perdonatemi la pedanteria se dice tra tre anni sono figli della legge vuol dire che aveva nove anni perché a dodici anni si andava al tempio di Gerusalemme a fare il frutto della Bar Mitzvah figlio della legge cioè l'interrogatorio per assumere appunto la qualifica di figlio della legge cioè di diventare responsabile delle situazioni peraltro è molto provabile che sia questo il motivo del famoso pellegrinaggio di Gesù dodicenne al tempio dove c'era bisogno dello smarrimento e del ritrovamento quindi molto probabile perché anche Gesù ha dovuto rispondere alle domande è stato informato da Maria Santissima doveva sapere tutte le cose perché altrimenti altro che interrogatori del catechismo della prima comunione della cresima di un tempo peraltro che adesso mai è diventato tutto all'acqua di rose era una cosa molto molto seria molto severa sai leggere domanda il Taddeo sì ma vado ad agio perché perché il maestro mi mette fuori tutti i giorni quasi tutti i giorni l'ho detto io dice Bartolomeo ma faccio così perché il maestro è vecchio e brutto e dice sempre le stesse cose che fanno dormire fosse come lui accenna Gesù starei attento picchi tu chi dorme o gioca io non picchio nessuno dice Gesù ma dico ai miei scolari state attenti per il vostro bene e per amore mio ah ecco così sì per amore sì non per paura dice il bambino ma se tu diventi buono il maestro ti vuole bene dice Gesù al bambino ma tu vuoi bene solo a chi è buono poco fa hai detto che sei stato paziente con questo qui che non era buono ah 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 cioè con Matteo la logica infantile è stringente io sono buoni con tutti dice Gesù ma chi diventa buono è amato molto molto da me e con quello sono tanto tanto buono il bambino pensa poi alza la testa e chiede a Matteo tu come hai fatto a diventare buono risponde gli ho voluto bene il bambino pensa ancora attenzione che adesso arriviamo eh e poi guarda i dodici dice Gesù sono tutti buoni questi warning certamente che lo sono ne sei sicuro dice sempre il bambino eh io delle volte faccio il buono ma è quando voglio fare un un malestro più grosso la risata di tutti è fragorosa ride anche e lo metto in via di confessarsi ride anche Gesù che se lo stringe al cuore e lo bacia una delle rare volte che Gesù si è fatto una onesta risata bambino di quelli da immaginare hai visto quei personaggi insomma che veramente fanno fanno ridere questi belle questi belli personaggi il bambino ormai molto amico di tutti vuole giocare dice ora ti dico io chi è buono e inizia la sua scelta guarda tutti e va dritto da Giovanni e Andrea che sono vicini e dice tu e tu venite qui poi sceglie i due Giacomi e li unisce ai due poi prende il Taddeo resta molto in pensiero davanti allo zelote Bartolomeo e dice siete vecchi ma siete buoni e li unisce agli altri considera Pietro che subisce l'esame facendo degli occhiacci per burla e lo trova buono Matteo anche lui passa e così Filippo a Tommaso dice tu ridi troppo io faccio sul serio non sai che il mio maestro dice che chi ride sempre sbaglia poi alla prova ma insomma anche Tommaso passa con pochi voti ma passa l'esame poi il bambino torna da Gesù e adesso guardate il proverbio hai perso una buona occasione per stare zitto ehi Monello ci sono anche io non sono una pianta sono giovane e bello perché non mi esamini dice Riscariota perché non mi piaci risponde il bambino la mamma dice che quando una cosa non piace non la si tocca la si lascia sulla tavola che la prendano gli altri ai quali può piacere e dice che se uno offre una cosa che non piace non si dice non mi piace ma si dice grazie non ho fame io non ho fame di te ma come guarda se mi dici che sono buono ti do questa moneta e che me ne faccio risponde il bambino pestifero cosa compro con una bugia la mamma dice che i denari i frutti di inganno diventano paglia una volta dalla madre vecchia mi sono fatto dare con una bugia un didramma per comprarmi le focacce col miele e nella notte mi è diventato paglia lo aveva messo in quel buco lì sotto la porta per prenderlo al mattino e ne ho trovato un mannello di paglia ma perché non mi vedi buono che ho il piede fesso sono brutto no ma mi fa paura ma perché chiede l'iscariota avvicinandosi non so lasciami stare non mi toccare però ti graffio che istrice è folle Giuda ride male non folle tu sei cattivo e il bambino si rifugia in grembo a Gesù che lo carezza senza parlare gli apostoli scherzano sull'accaduto poco lusinghiero per l'iscariota intanto ecco che torna la donna con una dozzina di persone e poi ancora ecco altre e altre saranno 50 circa tutte povera tutta povera tutta povera gente parleresti loro almeno un pochino questa è la madre di mio marito questi i miei figli e quell'uomo là è mio marito una parola signore sopplica la donna per dirti grazie dell'ospitalità sì la dico la donna entra in casa dove la reclama il poppante e si siede sulla soglia dando il seno da succhiare udite qui sulle miei ginocchia ho un bambino che ha parlato molto saggiamente ha detto tutte le cose ottenute con inganno divengono paglie la sua mamma gli ha insegnato questa verità non è favola è verità eterna non riesce mai bene quanto si fa senza onestà perché la menzogna nelle parole negli atti nella religione è sempre segno della alleanza con satana maestro di menzogna attenzione attenzione la menzogna è nelle parole negli atti noi possiamo simulare attraverso gli atti no? quindi dare l'impressione di una cosa che non è vera e nella religione questa poi diventa ipocrisia dei farisei attenzione è è sempre segno dell'alleanza con satana maestro di menzogna una delle caratteristiche io ricordo la primissima lettura dell'opera di Maria Valtorta è che Gesù con la menzogna proprio anche le piccolissime bugie che ogni tanto scappava qualcuno del gruppo apostolico non c'era un mentire diventava serio non mentire non mentire non mentire sono state le prime volte che presi molto sul serio insomma una cosa che generalmente comunemente si fa molto alla leggera e posso dire di l'ave smesso e quindi posso anche dire che le bugie non si devono dire non lo devo dire io l'ottavo comandamento no però non mi si inciaspica la bocca nel dire che le bugie non si devono dire mai perché voi sapete che quando uno redica bene e razzola male si inciaspica la bocca quindi siccome ci provo non è detto che ci riesco sempre ma ci provo quindi questo non sono assolutamente convinto alleanza con Satana non si fa e lui sempre così la giustificava non mentire il principe della menzogna è Satana Dio è verità sempre così quindi facciamo attenzione a questa cosa certo la bugia di scusa è l'esempio proprio di scuola del peccato veniale volontario però la bugia non è che che uno la dice per difetto o per passione la dice perché la vuole dire ecco perché c'è sempre il modo per dire il vero senza dire tutto ma non si dice proseguo che quasi finito il brano è quasi finita anche la puntata e Gesù illustra il precetto dell'amore come base del regno di Dio dopo qualche altro giorno di azioni evangeliche Gesù e gli apostoli interprendono il viaggio verso Gerusalemme per la Pasqua Gesù ha scelto un percorso che gli consentirà di passare da amici bisognosi ma gli apostoli avrebbero preferito strade meno disagevoli e più brevi Giovanni ha il pensiero che da un'altura si potrà vedere il mare grande quello di Roma si infiamma di entusiasmo sognando i futuri viaggi apostolici gli apostoli non hanno tirato respiro durante la statica confessione di Giovanni fermi là dove erano guardano il più giovane che parla con gli occhi velati dalle palpebre come di un velo gettato sull'ardore saliente dal cuore guardano Gesù che si trasfigura nella gioia di trovarsi così completo nel suo discepolo quando Giovanni mi tacee rimanendo rimanendo un po' curvo e ricorda la grazia della umile annunziata di Nazareth Gesù lo bacia sulla fronte dicendo andremo a vedere il mare per farti sognare ancora l'avenire del mio regno nel mondo Giovanni animo puro animo vergine animo semplice che non aveva mai visto il mare io mi ricordo benissimo questo signore il mare vorrei vederlo e quindi comincia a pensare a quando si faranno i grandi viaggi apostolici per andare a portare in tutto il mondo il Vangelo eccetera signore dopo hai detto che andiamo a Endor accontenta allora anche me per farmi passare l'amore del giudizio di quel fanciullo dice l'Iscariota oh ci pensi ancora chiede Gesù sempre mi sento diminuito ai tuoi occhi e a quelli dei compagni penso ai vostri pensieri vedete come ti affatichi per nulla il cervello dice Gesù io neppure più pensavo a quell'inezia e certo così era negli altri tu ce lo fai ricordare sei un fanciullo abituato solo alle carezze e la parola di un bimbo ti è apparsa la condanna di un giudice ma non è questa parola che devi temere sebbene le tue azioni è il giudizio di Dio ma per persuaderti che mi sei caro come prima come sempre ti dico che ti accontenterò che cosa vuoi vedere a Endor è un povero posto fra le rocce oh per chi non lo sapesse Endor dal punto di vista biblico era il luogo dove c'era la necromante che evocò che evocò lo spirito di Saul no lo spirito scusate di Samuele su richiesta di Saul travestito tra l'altro la grotta della necromante di Endor dico subito che il motivo per cui Gira voleva andarci era curiosare sulla grotta della necromante di Endor quindi chiaro che Gesù lo sa ma glielo vuol far dire a lui porta amici e te lo dirò vedete va bene risponde Gesù ma guarda di non soffrirne poi se a questo non può essere sofferenza vedere il mare a questo sarebbe Giovanni di Batte Giuda a me non può far danno vedere Endor vedere dice Gesù no ma è il desiderio di quel che si cerca di vedere nel vedere che può far male guardate Gesù che è grande come sempre ma vi andremo il desiderio di quel che si cerca di vedere nel vedere che può far male guardate anche qui che è come dovremmo imparare essere un pochino più vigili presenti a noi stessi esaminarci bene io quando risento queste cose ne trago grande edificazione poi speriamo che altrettanta sia la pratica comunque vedete come Giuda si preoccupa di essere diminuito ai tuoi occhi a quelli dei compagni penso ai vostri pensieri e Gesù dice subito ti preoccupi della parola del bambino no tu preoccupi della tua azione del giudizio di Dio ti preoccupi che sei diminuito ai nostri occhi quanta gente campa così non dobbiamo preoccuparci di essere diminuiti agli occhi degli uomini ma dobbiamo preoccuparci di quello che pensa Dio di noi come diceva il buon San Francesco se gli altri parlano male di te e tu sei buono è partito anche la limitazione di Cristo questo tu buono rimani se tutti parlano bene di te e tu sei cattivo cattivo rimani perché tanto ciascuno vale agli occhi di Dio e tanto egli è nulla di più e nulla di meno San Francesco d'Assisi d'accordo con l'imitazione di Cristo e riprendono la strada diritti verso il tambor la cui mole appare sempre più vicina mentre il suolo si spoglia del suo aspetto palustre si fa solito e più raro di vegetazione lasciando posto a piante più alte o a cespudi di vitalbe e rovi che ridono con le loro ronde novelle e di fiori precoci bene termina qui la lettura termina qui anche questa puntata benedico a tutti siamo datati Gesù e Maria e ci vediamo alla prossima Dio di benedica e la Santa Vergine vi protegga grazie a tutti grazie a tutti